Sul piano di risanamento acustico approvato tra le polemiche dal Consiglio Comunale di Pescara si muove anche la Procura. All'amministrazione sono state richieste le carte relative al nuovo regolamento che da qui a poco dovranno rispettare i gestori dei locali della Movida Cittadina per una convivenza serena con i residenti delle zone coinvolte. Proprio quest'ultimi lo scorso anno avevano richiesto l'intervento della Procura. Credo che la Procura abbia voluto acquisire gli atti che noi stiamo facendo vedendo che noi stiamo facendo gli atti e non che non li stiamo facendo e siamo la prima amministrazione che fa atti concreti su questo tema anche se questo tema esiste da molti molti anni da prima che io diventassi sindaco certamente anzi forse allora è stato acuito il problema e allora si sarebbe potuto risolvere in maniera molto più tranquilla e serena. Poi quando i buoi sono scappati dal recinto è difficile riportarli dentro ma noi ci stiamo riuscendo sapendo che c'è una linea chiara che questa città segue una città che dal punto di vista economico dimostra una vitalità che non c'è mai stata anche dopo la pandemia ma io immagino anche la bandiera blu che sta portando grandi vantaggi alla città dal punto di vista dell'immagine tutti gli interventi di opere pubbliche che stiamo facendo c'è una città che si muove molto velocemente e sa che deve decidere quando deve decidere. Il primo cittadino sorride quando si parla di screzzi all'interno della stessa maggioranza. Questa storia della guerra tra gli assessori l'ho letta sul giornale sinceramente mi fa sorridere perché non c'è stato mai un problema con gli assessori anche perché gli assessori sono delegati del sindaco sono collaboratori del sindaco e quindi ci mancherebbe che ci fossero assessori che non condividono la linea del sindaco la linea comunque della maggioranza. Queste sono le polemiche politiche che ci stanno sempre i giornali si divertono anche ad alimentare cose che spesso vengono equivocate però su quello assolutamente c'è da sorridere.